Dalla musica allo sport, buone notizie in casa a Trentino Volley. Il capitano Simone Giannelli e l'opposto Andrea Argenta sono risultati negativi al tampone di controllo. Possono quindi tornare in campo domenica appuntamento alla BLM Gruppa Arena di Trento per la partita di Superlega con Padova. Da martedì a giovedì sempre a Trento, girone di Champions League con Novosibirsk Carlo Vasco e Fredis Khaffen. Questa trasmessa in diretta da Rai Sport giovedì alle 16.